Iniziare tardi la preparazione e avere questi infortuni, specie sul fronte centravanti, sono fattori che condizionano. Ma bisogna fare meglio e anche nelle serate peggiori vanno evitate certe figuracce. E' il richiamo alla squadra del presidente delle Pescara, Daniele Sebastiani, che però chiarisce Massimo Oddo non si tocca, sta a lui e ai giocatori invertire la rotta. Una cosa su cui tengo a precisare è che adesso come la vendita della società, se abbiamo i giornali, ci sono altri dieci allenatori al Pescara. Oddo non si muove da Pescara, non si tocca, per cui è inutile che parliamo, anzi vi evito pur di scrivere, quindi evitate di scrivere. Anche quattro, cinque, evitate di scrivere. Siamo partiti per fare questo campionato senza grosse dichiarazioni, ma sicuramente per fare un campionato tranquillo. Adesso non ci fasciamo la testa, cerchiamo di guardare avanti con ottimismo e cerchiamo di essere tutti quanti compatti nella stessa direzione perché sapevamo che eravamo un pochettino indietro e ci voleva più tempo degli altri. Abbiamo finito per ultimi il campionato scorso, l'abbiamo riniziato per ultimi la preparazione per il nuovo. Quest'anno sarà una stagione tribulata un po' per tutti, quindi cerchiamo di fare meno danni possibile, però per fare questo bisogna avere unità di intenti e molta cazzimba, come dicono a Napoli. Preoccupano la tenuta difensiva, la fragilità e gli infortuni in avanti, ma sul mercato degli svincolati il Pescara non ci andrà. No, no, noi dobbiamo recuperare i nostri perché andare sul mercato degli svincolati a prendere i giocatori che sono fuori da cinque mesi non servono a nulla, significherebbe portarli qua e aspettare due mesi che si mettono a posto. Adesso dobbiamo aspettare i nostri e farli fare in modo che prima possibile ritornino in campo guariti, ma credo che nell'arco di una settimana li riavremo tutti e due. E poi se ci sarà bisogno a gennaio prendere qualcuno che ha giocato, però non di gente che sta a casa. E poi una battuta sul fronte trattative societarie. Nell'ultimo mese siamo passati da Pessina, che credo che sappia nemmeno che cos'è il Pescara Calcio, a Della Valle che ha appena lasciato la Fiorentina e che guarda caso vuole comprare la Pescara Calcio. Poi altri, gli arabi adesso, ci mettiamo di tutto. C'è una deadline, presidente, per questa trattativa? Ma non c'è nessuna deadline perché il Pescara per fortuna e per programmazione non ha nessun problema, quindi può andare avanti tranquillamente anche se non arriva l'arabo di turno. Parole che il presidente Sebastiani ha pronunciato nell'ambito della presentazione del nuovo sponsor, la IVC del gruppo Didonato, azienda abruzzese leader nel campo della pittura edilizia, il cui logo appare sulla manica delle divise da gioco. Si tratta di un motivo di orgoglio, noi siamo tifosi del Pescara da sempre, insomma io ricordo da bambino andavamo a vedere il Pescara all'epoca di Leo Junior, per cui da quel momento in avanti la passione è stata sempre riconfermata negli anni. Sono dal 1976 la prima società che fu costituita da mio padre, quindi oramai sono circa 45 anni l'anno prossimo, il gruppo ha avuto un'evoluzione importante negli ultimi 20 anni soprattutto all'estero, e appunto dall'anno scorso ci stiamo rivolgendo maggiormente ai mercati internazionali, considerato appunto che il nostro prodotto principale, il prodotto verniciante e i primi scelati per edilizia. Grazie.